Sabato scorso è stata presentata con un'apposita conferenza stampa la quindicesima edizione della festa che ogni anno anima il centro di Corinaldo in provincia di Ancona, Halloween la festa delle streghe. Quest'anno saranno sei giorni di manifestazione dal 26 al 31 di ottobre, come ci spiega il presidente della Proloco di Corinaldo, Fabio Baldarelli. Io di questo devo ringraziare la nuova amministrazione che ci ha consentito di allungare questa manifestazione per contenere all'interno del programma il fine settimana precedente, il venerdì, il sabato e la domenica. La serata di punta, oltre alla notte di Halloween, sarà il sabato sera con lo show dello zoo di 105. Le novità quest'anno abbiamo preso per sabato 27 lo show di 105, che è un elemento, diciamo, crediamo di grande attrattiva e di punta. Da sottolineare, ricorda il presidente Baldarelli, il grande lavoro dei volontari. Se non avessimo tutti questi corinaldesi e anche qualche ragazzo che viene dai paesi qui intorno, non riusciremo mai a mettere in piedi questa manifestazione. Questa è una manifestazione che vive sull'impegno di Corinaldo e dei corinaldesi e che è l'elemento clou e fondamentale per la riuscita di queste.